Ad Amatrice, andiamo in diretta dall'altra inviata, Isabella Di Chio. Buongiorno, ci troviamo nella scuola di Amatrice. Oggi le scuole ad Amatrice sono chiuse perché il sindaco Pirozzi ha ribadito il fatto che le strade non sono sicure e di conseguenza non è possibile tenere aperte le scuole proprio per tutelare la salute degli studenti. Però oggi qui, davanti alla Romolo Capranica, ormai diventata il simbolo della rinascita di Amatrice, è stata inaugurata la nuova struttura del liceo scientifico di Amatrice che è stata donata come la scuola Romolo Capranica è costruita dalla protezione civile del Trentino. In una scuola antisismica, così come la Romolo Capranica, è una scuola con dei moduli in legno, sono cinque classi di 45 metri quadrati ciascuna e poi ci sono dei servizi igienici, una aula biblioteca e poi una segreteria. Ed è una scuola cardioprotetta con un defibrillatore. In questo momento è in corso la cerimonia di consegna da parte della protezione civile di Trento alla provincia di Rieti di questo istituto che come vi ho detto però rimarrà chiuso ancora per 20 giorni. Però ci sono tutti gli allievi, ci sono le loro famiglie, ci sono anche i loro professori che chiaramente si trovano in una situazione di difficoltà proprio perché la scuola è chiusa ma ieri c'è stata una riunione molto animata tra il sindaco e i genitori di Amatrice. I genitori si sono rifiutati di portare i loro figli a San Benedetto del Tronto, preferiscono attendere entro 20 giorni la fine dei lavori sulle arterie viarie che portano ad Amatrice, che sono davvero complicate in questo periodo proprio per gli ulteriori crolli che ci sono stati dopo la scossa del 30 ottobre. Quindi in questo momento è un momento e abbiamo visto anche tanti ragazzi curiosi di vedere quella che sarà la loro scuola e soprattutto volenterosi perché vogliono chiaramente ritornare in classe. Sono presenti tutte le forze in campo che stanno portando il loro contributo in questo periodo post-sisma e quindi in questo momento è in corso l'inaugurazione e poi vi racconteremo anche nelle prossime edizioni le altre fasi di questa inaugurazione.